confutare significa ribattere un'affermazione una motivazione un'opinione per dimostrare che è erronea o infondata in un debate regolamentato confutare significa analizzare le ragioni presentate dalla controparte e non offrire semplicemente una contro argomentazione chi confuta deve infatti riprendere l'argomentazione dello speaker avversario e la linea argomentativa della squadra avversaria per smontarle dall'interno e metterne a nudo l'inadeguatezza lo scopo della confutazione è creare punti di scontro points of clash quali sono gli oggetti della confutazione su cosa deve focalizzare l'attenzione lo speaker cui spetta il compito di confutare gli oggetti della confutazione possono essere almeno tre in primis le definizioni dei termini chiave della mozione forniti dalla squadra avversaria si può mettere in discussione il significato che è stato attribuito ad essi si possono mettere in evidenza le ambiguità e le contraddizioni delle definizioni rispetto alla linea argomentativa assunta dalla squadra in secondo luogo e questo è indubbiamente il compito più difficile si può provare a scardinare la linea argomentativa della squadra avversaria dimostrando che i nessi logici degli interventi non sono chiari che le ipotesi o assunzioni non sono fondate oppure sottolineando la presenza di generalizzazioni e o di eventuali pregiudizi infine si può focalizzare l'attenzione sulle prove e sui dati presentati a sostegno dell'argomentazione chi confuta può ribattere che i dati sono insufficienti oppure che la squadra avversaria ha ignorato le evidenze che dimostrano il contrario o ancora che le fonti non sono state interpretate correttamente